Roma. A Giovanni, il trattore, quanti critici invidieranno l'arma e il colpo maestro? Il re degli amici ha istituito un premio letterario. Con Falqui, Zavattini, Greci, Picone Stella e Bellonci costituiscono la giuria. Savinio e Levi erano presenti alla prima edizione nel 1949. Gli applausi e l'assegno di 250.000 lire furono diretti quella sera ad Alberto Savinio. Anna Magnani aveva due volte ragione di brindare. L'opera vincitrice era un dramma, l'Alcesti di Samuele, fosforescente e tragica cronaca di ieri già vista nella luce del mito. Ed eccoci al 1950, seconda edizione del premio. Buon segno di vitalità, promessa di resistenza. In giuria c'è Bontempelli. Calosso ritrova la sua non sopita vocazione di critico. Greci legge il verbale. Il premio tocca a Mario Lacava, calabrese, 42 anni, autore del libro Caratteri. Opera di un moralista che ha l'intelligenza e il buon gusto di non slittare nel moralismo.